Musica Salve amici appassionati di Football Manager Qui con voi come sempre c'è Mike94 Ovviamente il Football Manager d'Italia Siamo con la Salernitana per continuare la serie sui consigli Su come impostare e iniziare ovviamente le vostre carriere Siamo appunto qui con la Salernitana Andiamo a vedere subito lo staff Prima che me lo dimentico È un discreto staff appunto per una serie C1 A parte questo fisioterapista che ha fisioterapia 10 Quindi senza infamia e senza lode È il vostro capo osservatore che non è questa grande cosa Però comunque meglio di nulla Vi consiglio due osservatori comunque da affiancare Che sono tutte e due molto validi E soprattutto migliori di questo bel monte E purtroppo non vi posso consigliare Chiaschini Il mio mitico Chiaschini Perché non vuole venire in una squadra di 6 C1 Come primo osservatore vi faccio vedere Briganti Che ha discrete qualità ambientali Però veramente ha ottime conoscenze In diverse nazionali Belgio, Italia, Francia, Olanda E poi veramente si prende niente Tipo 30.000 euro all'anno Però veramente conosce 4 campionati Uno più bello dell'altro Quindi veramente può essere molto utile Come anche può essere molto utile questo Pistillo Che ha qualità mentali superiori rispetto a Briganti Però conosce solo l'Italia E vi consiglio sinceramente di prendere tutte e due Sono davvero ottimi Andiamo a vedere la Salernitana La Salernitana è una discreta squadra Una buona squadra appunto per essere in Serie C1 Potreste arrivare in Serie B Un po' grazie ai miei consigli Spero E soprattutto se voi siete abili A guidare questi giovani O anche giocatori di più esperienza In Serie B Spero che ci arriviate Perché essendo campano Vedere la Salernitana in Serie B Sarebbe ancora più bello Però perdiamoci in chiacchiere Andiamo subito a vedere i vari giocatori Come questo Gianna Rilli Portiere giovane 22enne Però giovane e bassa Perché non ha ottime prospettive E quindi vi consiglio O di venderlo subito O comunque di rinnovargli il contratto E mandarlo in prestito E vedere che vi combina Come altro portiere C'è questo Berardi Che è giovane Viene dalla Lazio Prende un bel po' di ingaggio Soprattutto considerando Che voi avete solamente 4 milioni e mezzo Come budget ingaggio E non è comunque male Per una squadra di Serie C1 Considerando che noi con lo Spezia Ne avevamo 6 E in Serie B Comunque vi consiglio di tenerlo Più che altro come vice Primo portiere Poi ovviamente per l'anno prossimo Ce ne saranno un sacco di giovani A poco prezzo Comunque vedete anche se questo Gianna Rilli E' cresciuto o meno David Giubilato Ex Napoli Infatti aveva un nome familiare Lo stesso il gioco Lo metteva fra i cedibili E vi consiglio di venderlo Perché oramai Il calo delle sue caratteristiche Si vede E' come Molto evidente E quindi vi consiglio di venderlo O di svincolarlo Se nessuno se lo prende Alberto Bianchi 32N Secondo me è un ottimo Panchinaro Buone caratteristiche Tecniche Comunque da difensore Ovvio E comunque difensore di Serie C2 E scusate Serie C1 Ottime qualità mentali E discrete qualità fisiche Soprattutto per un 32N Alessio Luciani Invece ottimo difensore In prestito dalla Lazio Veramente ottimo Deve crescere A solo 23 anni Però secondo me Per una squadra di Serie C1 Può fare veramente Molto molto bene Da alternare insomma Con Bianchi Per non Non comunque Permettere anche un po' di esperienza Ecco Invece Alessandro Tuia Che è in comproprietà Con la Lazio Veramente avete Tantissimi giocatori In prestito dalla Lazio Alcuni anche dal Verona E questo è veramente Molto molto forte Credo che sia Il difensore più forte Che noi abbiamo E vi consiglio ovviamente Di tenerlo E di riuscire Di cercare Più o meno A strapparlo dalla Lazio Anche se sarà Se sarà molto difficile Però comunque Almeno quest'anno Vi chiedo Di farlo giocare titolare Comunque vi consiglio Di farlo giocare titolare Perché Sembra Sembra molto forte Maurice Molinari Invece 38enne Un metro e 91 Veramente Una branda Ottime qualità fisiche A parte l'accelerazione Però ragazzi È un 38enne Però comunque Secondo me Può far panchina Benissimo Io Non vi consiglio Semmai di rinnovarlo O anche Sibolo Consiglio di rinnovare Il contratto Semmai abbassando un po' L'ingaggio Però veramente Ha ottime qualità fisiche Buone Qualità mentale Comunque come difensore Qualità tecniche Buone Siniscalchi invece 28 anni Ero molto indeciso Però A 28 anni Questo contrasto 10 Non è che mi esalta Entusiasma più di tanto Poi il contratto in scadenza Io direi Di mandarlo via Simone Piva Era un altro giocatore In cui ero un po' Indeciso Però poi Ho visto l'ingaggio Ho visto che può giocare Su entrambe le fasce E comunque Ha Un buon colpo di testa Contrarsi 11 Cross 12 Marcatura 12 Vi consiglio Vi consiglio insomma Di tenerlo Per fargli fare Panchina E dopo lui C'è Alvaro Ampuero In prestito dal Parma Veramente un terzino Fortissimo Soprattutto ripeto Per la 6 C1 Però veramente Mi sembra in gamba Questo giovane Potete anche fare I batte Calci tango I calci piazzati Un buon contrasto Ottimo cross Marcatura Passaggi Rigori Rimesse lunghe Quindi un terzino Veloce anche Accelerazione e velocità Però anche col piedino Veramente buono Poi sono di 20 anni Purtroppo è del Parma Però Almeno quest'anno Godetelo appieno Chi rieletti Invece Consiglio di Di mandarlo via Veramente Un po' scarsetto Un po' tanto scarsetto Ecco Federico Rizzi Invece Io vi consiglio Di metterlo titolare Sì è il 32enne Però se lo vendete Non ci fate niente Un ingaggio Comunque onesto E ha comunque Un buon passaggio Marcatura Dribbling Cross Contrasti 14 Una buona Caratteristica Qualità fisica Per un 32enne Qualità mentali Pure e buone Vi consiglio di farlo Giocare E come Lorenzo Pasqualini Invece 23 anni Vostro giocatore Era indeciso Se mandarlo in prestito O no Però comunque Tenetelo In squadra Come prima alternativa Perché comunque Mi sembra un buon giocatore Comunque Ottimo rapporto Idem per Manuel Scalise Vabbè Tiene 31 anni In prestito All'Ascoli Prende veramente Pochissimo Può giocare Su entrambe le fasce Quindi E comunque Parecchio veloce Per non essere Un 31enne E vi consiglio Di tenerlo Comunque Come ultima alternativa Sulle fasce Poi può giocare Anche a centrocampo O proprio Come ultima alternativa Anche come Ala Montervino Il mitico Montervino Veramente Lui ex Napoli Veramente Una bandiera Del Napoli Montervino E Purtroppo Però ragazzi Anche il capitano Della Salernitana Ma stesso il gioco Lo metteva Frecedibili E vi consiglio Anch'io Di metterlo Frecedibili Perché Oramai Diciamo Il calo Delle statistiche Lo vedete Stesso voi Ha ottime Qualità mentali Veramente Da capitano Però qualità fisica Veramente In discesa E qualità tecniche Ancora di più E' stato il classico Sempre il classico Giocatore Alla gattuso Diciamo E Si vede ancora Però Sono molto indeciso Però A massimo Tenetelo Più che altro Come Per farlo Per lo spogliatoio Ecco Perché veramente Ha ottime Qualità Mentali Manolo Pestrin Invece 34enne Ha qualità Tecniche Non in calo Come Montervino Prende anche Un po' più Di stipendio Qualità mentali Buone E qualità fisiche Lo stesso Discrete Come comunque Centrocampista Io ve lo consiglio Di tenere L'ho messo Addirittura Titolare Ma perché Veramente Ci abbiamo Pochi centrocampisti E quelli che ci abbiamo Fanno un po' schifetto Però Questo Pestrin Da tenere Gennaro Esposito Invece Io lo rimanderei Indietro All'Alberona Perché Prende un sacco Di ingaggio E poi Non è nemmeno Questa grande cosa Sinceramente Riccardo Per Petuini Invece Lo manderei In Pestito Non è Scasso Però Secondo me Non è Sta grande cosa Vabbè La marcatura È 9 Questo è un po' Quello che Mi fa Pensare Però Se voi volete Tenetelo Fatelo giocare Io però Lo terrei Più che altro In panchina Ecco Sinceramente Poi Enrico Zampa Che se non mi ricordo male È il centrocampista migliore Sì è in comprobità Anche sempre Con la Lazio E credo sia Centrocampista migliore Che abbiamo E tenetelo Fatelo giocare Ovviamente Titolare Ripeto Per Petuini Avendo comunque Pochi centrocampisti Potreste anche Tenerlo Come panchinaro Capo Invece Lo rimanderei Indietro Dalla Lazio Perché non è Non mi entusiasma Affatto Sinceramente Poi Tutti questi giocatori Che ora vi citerò Mandateli via Questo Mounard Non mi piace Sinceramente Andrea Luzzi Idem A 22 anni Ha un rapporto Veramente molto scrauso E Nalini Uguale 23 anni Niente di che Sinceramente Pasquale Foggia Invece Più conosciuto Pasquale Foggia Che viene dalla Lazio Guarda qua Rapporto 5 stelle Io gli Rinnoverei il contratto Ovviamente Perché Secondo me Può ancora Fare molto Per questa squadra E E' veramente Ottimo Ettore Mendicino Invece Impressito Sempre dalla Lazio E Rido Perché veramente Ci abbiamo un sacco di giocatori Impressito dalla Lazio In compagnia Con la Lazio Comunque ve lo consiglio di tenere Perché comunque può essere Buono In panchina ovviamente Alessandro Volpe E' Ottimo Ottime qualità mentali Ottime qualità fisiche Qualità tecniche Comunque Buone E vi consiglio di tenerlo Idem per Fofana Fofana Non è Fofana Ma Fofana E' molto alto 28 anni In contratto che scade Però io Lo rinnoverei Finalizzazione Un po' così Però Potrebbe fare Comunque abbastanza bene Decidete voi Se mandarlo via Certo Se ci fate su un milione Fate un affare Però Sta a voi Ciro Ginestra Buono Buon attaccante Metri 79 Colpo di testa 10 Finalizzazione 15 Secondo me Può far Tanto 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 Matteo Guazzo Idem A 31 anni Fatevi fare Questo ultimo anno Alla salernitana Poi Arrivederci Grazie Oppure cercate di Rinnovarlo E poi venderlo Comunque Può ancora fare Abbastanza bene L'ultima scelta Insomma Come attaccante E poi invece Ci abbiamo Questo Antanognos Vabbè Comunque Ragazzi Lui Che io Sicuramente Venderei Che non è Sa grande cosa E poi Gustavo Il brasiliano Sono indeciso Sul di lui O mandatelo in prestito O tenetelo Come Ultima scelta Però Mandatelo in prestito Perché Qualità mentali Veramente Sono scarse Vi consiglio Di farlo crescere Semmai In serie C2 Come tattica Insomma Il portiere Ci manca E andremo Sicuramente A vedere Ci manca Un portiere Di Esperienza In difesa Invece Siamo a posto Ci abbiamo Bianchi Pasqualini Scalise Piva Molinari Ampuero Titolare Luciani Tuia E Rizzi Rizzi Vi consiglio Di farlo allenare Sulla fascia Destra Perché Ampuero Secondo me È intoccabile Titolarissimo Sulla fascia Sinistra Scusate Tuia Titolarissimo Ovviamente In difesa Centrale Luciani Latenei Con Bianchi E Molinari Che sono Comunque Tutti e due Molto Centro Campisti Onesti Scusate Difensori Centrale Onesti Pestrin Io qui L'ho messo Titolare Però Ovviamente Vi andrò a consigliare Anche altri Giocatori Anche più forti Zampa Ovviamente Titolarissimo Perché mi sembra Il migliore E poi In panchina Non ci sono Perché Centro Campisti Che Veramente Ne abbiamo Pochi Però Vi ripeto Al massimo Vi tenete Montervino Più che altro Per lo Spogliatoio E ovviamente Poi me ne andrò a consigliare Altri Perché mancano Sia In campo Centrocampisti Che In panchina Ragazzi Più che altro Io ho fatto Questa formazione Simile Albiro No Proprio Albero Di Natale Ex Uno schema Di Ancelotti Però Perché Potevamo anche fare Il 433 Però Le ultime squadre Che sto facendo Sono quasi tutte Col 433 Soprattutto Andremo a vedere Poi Nel prossimo video Con la regina Sarà un'altra volta 433 Ma vi spiegherò Anche il perché Più che altro È un fatto di cuore Per la regina Ma poi vi spiegherò E quindi Ho fatto così Lo schema Ripeto Perché Non volevo fare Solo il 433 Che poi sembra che Che so fare solo Quello schema Ma vi consiglio Anche di giocare così Forse siete anche Un po' più coperti Col 4-5-1 Sembra veramente Un ottimo Classico albero Di Natale Più che altro Quando vi volete coprire Potete mettere 3 mediani Se no potete anche Metterli Scusate Tutti e 3 centrocampisti Però Come vi pare Poi ripeto Potete anche mettere Volpe e Foggia Sulle fasce Quindi formare Un 433 Sta a voi questo Però vi consiglio Questo schema Che Mi sembra Ottimo Comunque Volpe e Foggia Trequartisti Veramente Coppia d'oro Che sono veramente Fenomenali entrambi E Ginestra Prima punta Quindi che cosa ci servirà Un portiere titolare Ovviamente Che non ce l'abbiamo Un centrocampista Titolare Almeno una riserva E semmai Un trequartista Perché ci manca Andiamo subito A vederli Una lista Selezionati Ci abbiamo Tre portieri Sono tutti e tre Svincolati Anche perché Ragazzi I soldi che ci abbiamo Sono veramente pochi Sono 175 mila euro E poi Di Ingalgi Mi pare che spendiamo Quanto abbiamo Un po' meno 200 mila euro in meno Spendiamo Ma comunque Né che ci abbiamo Questa grande cifra Cioè non ci abbiamo Quasi nulla Vi consiglio Questo Luzzi Poi c'è Raul Navas Che mi sembra Ancora più forte Ha 35 anni E mi sembra Un ottimo portiere E l'ultimo Benvenu Il francese Sono tutti e tre Ottimi Ottimi portieri Forse il migliore E il più esperto E questo Raul Navas Anche se Un po' mi spaventa L'altezza Che è un metro e 79 Però ragazzi Vediamo un po' La storia Che non la conosco Giocata nel Cordova Titolare Anche mi sembra Giocata nella serie B Spagnola Ha fatto un solo anno Nella serie A Spagnola Però non giocando mai Comunque è un portiere Che negli ultimi Dal 2008 Circa Comunque dal 2007 Le sue NS 15 partite Minimo le ha fatte Poi ha fatto anche 40 partite In serie B Spagnola Che comunque sappiamo tutti Che è ugualmente tosta Come Ugualmente tosta Come campionato Quindi Mi sembra Veramente molto forte Per una serie C1 Poi questo Luzzi Anche da Oramai sono anni Che non gioca Dall'ultimo contratto Avuto nel 2010 Benvenuto Vediamo un po' Idem Ripeto Vi consiglio questi tre Vedete voi Chi vuole venire Fra di loro Ma vi consiglio di più Maggiormente questo Raul Navas Lo sapete che Vi ne consiglio sempre più nomi Per due motivi Cioè no Per un motivo Perché può essere Che un determinato giocatore Non voglia venire Anche se sul mio database Questo Raul Navas Verrebbe senza problemi Vi dico sempre Il mio preferito Però comunque Tutti i giocatori Che vi consiglio Sono tutti ottimi Ovviamente Come mediani Ce ne abbiamo un po' Ce abbiamo questo Rodler Che sarebbe più giovane Anche quello Dovremmo pagare Però Essendo in scadenza Tipo un 70-80 mila euro È vostro E non mi sembra Affatto scarso Come mediano Può giocare anche come difensore Un metro e 91 Quindi può anche fare Un piccolo Fellaini Un po' come Ash Taylor Nello Spezia E mi sembra Un onesto Medianaccio Ecco Sidi Keita invece Svincolato Eppure lui Mi sembra Un buon mediano Ottime qualità ambientali Discrete Con ottime qualità fisiche Tecniche Da proprio Da medianaccio Ecco Poi Sapete il mio amore Per adesso Benedetti Che su statistiche È veramente un mostro Poi in scadenza Con circa 120-150 mila euro È vostro È veramente un fenomeno Ragazzi Palla al piede Sia Con i piedi Sia come mediano Veramente È fenomenale Per me Poi Ognuno ha le sue idee Poi Menacell Trentenne Veramente Questo lo prendereste Con pochissimo Può giocare anche Come mediano Scusate Come terzino Come mediano Insomma Può giocare In tutti i ruoli Invece Morosini Può giocare Sia a centrocampo Che come trequartista E Comunque Dei piedi buoni Può fare Molto abili Calci d'angolo Calci piazzati Molto abili Ovviamente Se c1 Poi a soli 21 anni Veramente un ottimo Trequartista Centrocampista Sbarra Centrocampista Poi ci abbiamo Altri tre Tutti svincolati Ragazzi Ripeto Perché non ci abbiamo Una lira Veramente Siamo a secco Di soldi Se riuscirete Veramente a vendere Il giocatore Che vi ho detto Ovviamente Si ci avrete Un po' Di dindini Ma che semmai Potete spendere Per questo Benedetto O per questo Road Come portieri Non ci sono Molti portieri Che vogliono Venire Anche se Con Pagandoli Quindi Comunque Fate Affidamento Su questi tre O comunque Su altri Svincolati Bravi Ugualmente Ecco Comunque Morosini Questo Bowazza Pure mi sembra Molto Valido Questo giocatore Algerino Veramente Mi sembra Molto forte Soprattutto La serie C1 Veramente Una valida Alternativa Volpe Affoggia Adriano Pimenta Ugualmente Non ho potuto Far Osservare Perché Scouting E' troppo Oneroso Però mi sembra Veramente Un ottimo Trequartista E può giocare Anche al centrocampo Poi quanto Chiede E vabbè Come Cash chiede Un bel po' Di soldi Però mi sembra Veramente Molto forte Come questo Vincenzo Sarno Mi sembra Un piccolo Sau Ovviamente Un po' Più lento Ecco Però come altezza Quasi ci siamo Però come qualità Tecniche Veramente Ottime Qualità Tecniche Buone Qualità Mentali E un po' Discrete Qualità Fisiche Però comunque Nemmeno Schifose Ecco Vi consiglio Questi qui Al centrocampo Veramente Sono tutti Ottimi Benedetti Ketaro Odler E anche Questo Morosini E' ottimo Come tre quarti Sono tutti e tre Veramente Formidabili Poi comunque Considerate Che sono Riserve Visto che Volpe e Foggia Fossi in voi Li terrei Come titolari Fissi E spero che I consigli Vi siano stati utili Non Come mentalità Io vi consiglio Essendo La Saternitana Di giocare in contropiede Ugualmente Anche in Serie C1 Perché comunque Non sarà facile Sono belle squadre Benelento Catanzaro Grosseto 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 Ciao Bodo Che è veramente Molto forte Pisa Che ha giocato Anche contro Lo Spezia E ha fatto bene Contro di noi E noi siamo in Serie B Quindi Comunque non è un campionato facile Provate a far giocare Contropiede standard La filosofia Io metterei La scena su bilanciata E poi Semmai le istruzioni Purtroppo Le istruzioni Vabbè Io la vedo così Anche un po' come voi Volete far giocare La vostra squadra Ovviamente Non può Cioè Farla giocare Sulle fasce Non ha molto più senso Se mettete questo schema Direi più di giocare Al centro Con questi tre mediani Anche se I mediani Dovrebbero spostarsi Un po' sulle fasce Per bloccare Eventuali giocatori E semmai Anche di far partecipare Alla fase difensiva Volpe e Foggia Perché non sono Veramente ci sarebbe Un buco Sia sulle fasce Che a centro campo Stesso Quindi Vabbè Ovviamente Disturbate gli avversari Quindi di non lasciare Molto spazio Perché se veramente Lasciate spazio Sono cazzi amari Marcate più stretti E Il ritmo Dipende comunque Sempre dalla partita Anche dall'andamento Della partita Come sta Come sta facendo E Per sfruttare Centro fasce Forse non Cliccherei nulla Perché potrebbero Sia giocare sulle fasce Facendo spostare Zampa O comunque Facendo avanzare I terzini E Volpe e Foggia Potrebbero poi anche Alternarsi fra Trequartisti e Ala E anche poi Giocare indietro Arretrando Ecco Anche perché come contrasto E marcatura Non sono affatto scarsi Almeno Foggia Non mi sembra male Ugualmente Volpe Vabbè Marcatura un po' cagher Però Non è affatto male Detto questo Spero di esservi stato Utile Vabbè Calci piazzati Ripeto Sempre molto facile Questo Ampuero Del Parma È ottimo Foggia Volpe Idem Con i rigori Ci sono ottimi Rigoristi Come appunto Questo Giro Ginestro Comunque anche Fra i vari giocatori Che vi ho consigliato Ce ne sono Tanti ottimi E spero Di che ci sia Stato utile Questo video Come sempre Qualsiasi domanda Qualsiasi cosa Chiedete pure E niente Come sempre Vi invito a condividere il video Questo per crescere sempre di più Stiamo crescendo sempre Di più Appunto Mi fa davvero tanto piacere Perché possiamo condividere Fra di noi Sempre le nostre avventure Le nostre esperienze Su Football Manager Iscrivetevi Se non siete iscritti Mettete un bel like Commentate Ripeto Qualsiasi cosa Chiedete Se volete anche Consigli per un'altra squadra Chiedete Che farò un altro video Simile a questo Quindi come sempre Un saluto da Mecca94 E da Football Manager Italia Ciao ragazzi